Facciamo il prossimo video di pallone, facciamo il prossimo video di pallone, mi presento, sono Anthony Konga e sono bellissimo. Giochiamo a pallone, speriamo che il sole si è arrivata per un po' perché in quanto deve fare il video di pallone, facciamo, palleggio, grande, Anthony Konga è quello che farà, palleggio, ma guarda se mi esce, no? Oggi vanno proprio come va il tempo, palleggio, palleggio, sono stato consacrato nella vita, ma non faccio il palleggio. E qui il pallone lo usiamo per un tale palleggio, oggi mi sento anche male per il sole e il video di pallone è, palleggio, culo, sul tetto, è andata a finire la palla, dopo è ritornata giù. Palleggio, ma perché non mi vengono sti palleggi? Palleggio, ma guarda, quando le cose vanno male, ma ti dove vuoi andare? Vanno male e basta, non c'è modo di farle andare bene. Palleggio, dove vai? Dove vai? Ti fermi quasi o no? Ragazzi, oggi è come se ci avessimo ubriagati e non ce lo facciamo più a fare palleggio, ci sentiamo pesanti, perché il tempo oggi... non per le scatole, scusate, per le tale parole che dico, le scatole, fanno qua le scatole, palleggio, wow, che ha combinato, mi sento leggermente estremo, ma senza forze. Palleggio, palleggio, culo, poteva combinare anche di mezzo ragazzi, ma la prossima volta sarà più eccezionale la cosa. Poi dici che con le maglie non portano fortuna perché non vendi di niente, cerchiamo di essere tali sulle cose. Oggi palleggio è quello che vorrei spiegare, che le cose vadano male. Palleggio, palleggio, grande, venghi qui, allora cerchiamo di costare sulle cose, oltre che mi sento malaticcio, ma poi tra l'altro palleggio, palleggio. Palleggio, sul bordo del cespuglio dorato, per raccogliere adesso, dobbiamo cacciarsi sul bordo del cespuglio dorato. Palleggio, palleggio, fermati, perché se no mi ingazzo, ma no, Natale, come una besta. Palleggio, ragazzi, mi sa che il video lo possiamo pure per far finire. Ragazzi, spettacolare Anthony Kong per quello che ha fatto, ma sa benissimo che la batteria del video è scarica. Stop.